Non raggiungiamo con i sussidi alimentari tutta la popolazione povera e la popolazione povera sotto il profilo della povertà alimentare non conosce le giuste diete alimentari in termini di rapporto qualità prezzo. Se parliamo di benessere fisico, certamente l'Italia è molto avanti sia in termini di sicurezza degli alimenti che di valori nutrizionali, è avanti nel benessere psichico, è più debole invece relativamente al benessere sociale dal punto di vista di una incapacità delle istituzioni di soddisfare quella che è la domanda sociale di alimentazione. Dovremmo migliorare l'interazione con tutte quante le istituzioni per cercare di raggiungere quanto più possibile la popolazione al di sotto della soglia di povertà e soprattutto però dovremmo lavorare in termini di educazione alimentare proprio per cercare di far raggiungere a questa fascia della popolazione italiana la conoscenza e la competenza e l'educazione in termini di diete alimentari opportune. Le proposte riguardano soprattutto l'attenzione del consumatore ad andare verso quelli che sono chiamati i mercati di prossimità. Per quanto riguarda invece la parte relativa alla domanda sociale di alimentazione, qui bisogna lavorare molto sui bandi che le istituzioni pubbliche mettono in campo per far vincere le gare alle varie istituzioni, alle varie società. Infine, per quanto riguarda la performance sostenibile dell'agroalimentare, è necessario incentivare molto il modello di economia circolare.